da oltre 40 anni vacilfrutta c'è per te la qualità e risparmio vacilfrutta c'è per te selezioniamo il prodotto vacilfrutta c'è per te benvenuti al meteo dopo il veloce passaggio temporalesco il tempo torna ad essere in prevalenza stabile con l'anticiclone ancora più forte vediamo il dettaglio di mercoledì 29 giugno sul veneto avremo un ampio soleggiamento cielo sereno o al massimo poco nuvoloso sui monti alternanza di nuvole e rasserenamenti con varie piogge durante le ore pomeridiane fenomeni che potrebbero poi estendersi anche alle zone pedemontane e a quelle pianeggianti adiacenti temperature senza particolari variazioni minime tra 20 e 24 gradi massime invece comprese tra i 29 e i 33 gradi spostiamoci ora sul friuli venezia giulia su pianura e costa cielo poco nuvoloso sui rilievi in giornata sarà possibile qualche rovescio o temporale sparso temperature minime tra 20 e 24 gradi massime sui 30 32 gradi infine spostiamoci sul trentino alto adige anche qui sarà soleggiato inizialmente nelle ore pomeridiane più instabile con locali acquazzoni sparsi temperature minime intorno ai 16 17 gradi massime infine sui 30 gradi all'incirca dal meteo per ora è tutto vi auguro come sempre un buon proseguimento con antenna 3 da oltre 40 anni facci il frutta c'è per te la qualità e risparmio facci il frutta c'è per te selezioniamo il prodotto facci il frutta c'è per te che inizia sempre appesi insieme la vita è un buon lavoro ma sempre risposta e insieme le infine spostiamoci il frutta c'è si spostiamoci il frutta c'è per te